Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Diciamolo al sergente Sì, chiedete al sergente o al capolare O al... C'è il capolare e chiedete il capolare Guarda che devono andare giù a cambiare la pietola Prova di innescare il fuocone senza cuore Sì, chiedete al capolare 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 In l'estremo izquierdo, il resto della infanteria espagnola comienza a scegliere. In l'estremo intercambio di fogo e di granada. La granada in questa epoca era portata da un soldato speciale tocato con una mitra che aveva 4 o 5 proiettiles esférico di hierro in una borsa di costata e un mechero che aveva prendito nel pezzo, dava un fogo e la lanzava sopra il enemigo. Erano i soldati utilizzati per il asalto, i soldati che avevano più quantità di bambini. Perciò, portatez aux armi! Portatez aux armi che voi finissi! Prendete la line! No è senzio del payoneo! Poi di nuovo a le linee aliadas, che poco a poco perdono il terreno. In il centro, i portuguesi stanno guardando, però ci saranno molti di loro cercano. E non sono prisioni. Il centro, i portuguesi stanno guardando le linee. Quedano escasos 40 metri, fronte a fronte, recargando il città. Una descarga masiva e cerrada, hace reti. E atacano, producendo il hondimento del fronte aliato. Miles di hombres saranno presionati, senza perdere la cara al enemigo. Ambas linias se separan. E se le fosei, si dice sali. Ines el plazzo. Ines la buona, ines la buona. Ines la buona, ines la buona. Dentro delSon 10 dolar.